Oggi per Notte Criminale parliamo di un efferato omicidio commesso sul treno. Termini Palermo, il primo febbraio del 1893. Vittima dell'attentato fu Emanuele Notarbartolo, rampollo di una delle più eminenti famiglie aristocratiche palermitane, già sindaco di Palermo tra il 1873 ed il 1876 e direttore generale del Banco di Sicilia dal 1876 al 1890. Quando venne scoperto il cadavere sulla tratta fra Termini e Trabia, gli ospedali di Palermo erano ancora pieni di feriti di calta vuture. E di lì a qualche giorno sarebbero esplosi in tutta la loro virulenza i moti rivoltosi dei fasci siciliani. L'attentato in cui perse la vita Emanuele Notarbartolo non può essere considerato un episodio di terrorismo politico, come invece quelli che avevano caratterizzato nell'immediato il periodo post-unitario. L'aggressione brigantesca venne esclusa in considerazione che tra il brigante e la ferrovia, come sosterrà poi al processo l'avvocato Giuseppe Marchesano, c'è una incompatibilità completa, addirittura un anacronismo. Neppure poteva essere considerato un delitto di mafia, almeno fino a che questa non si caratterizzasse per questioni di gabelle e di guardiania, quindi come lotta tra pari. In effetti non era mai accaduto che un personaggio tanto eminente venisse ammazzato dalla mafia. Eppure, nell'opinione pubblica, si diffuse immediatamente la voce che proprio di delitto di mafia si trattasse e per dirla con il procuratore generale Sigale di delitto di alta mafia. Come testimonia, il questore di Messina Peruzzi, già ispettore di pubblica sicurezza a Palermo all'epoca del fatto, nei pubblici ritrovi, nelle vie dovunque si diceva, la mano deve essere stata quella di Palizzolo. Del resto, che la voce pubblica ipotizzasse un delitto di mafia, anzi di alta mafia, venne poi accertato nei processi che seguirono, laddove furono chiamate a rispondere del delitto due esponenti della famiglia mafiosa di Villabate, Matteo Filippello e Giuseppe Fontana. Raffaele Palizzolo non compariva agli atti del processo, ma costui, soprannominato Ucigno, il Cigno, deputato e consigliere di amministrazione del Banco di Sicilia, aveva un buon movente per ordinare l'uccisione di Notarbartolo, in quanto si era arricchito giocando in borsa con i soldi dei risparmiatori ed era caduto in disgrazia per aver commesso un solo ma imperdonabile errore, quello di intestare a se stesso il mandato di pagamento. Mandato di pagamento finito, chissà come, sul tavolo del Presidente del Consiglio di quei tempi, il Marchese di Rudini. Questi aveva incaricato Emanuele Notarbartolo di far luce su quanto stava accadendo al Banco di Sicilia ma l'incarico al Notarbartolo era stato revocato dal Presidente del Consiglio Francesco Crispi. Questo delitto assume una notevole importanza. Notevole importanza in quanto come dicevo prima fu la prima volta che la mafia immola un cadavere eccellente. E questo per oltre un secolo dall'unità d'Italia in quanto occorrerà per avere il secondo attendere attendere il 1971 quando ad essere sacrificato toccherà al procuratore generale di Palermo Pietro Scaglione. ma anche il processo ebbe una sua particolare rilevanza. Per legittima sospicione infatti il dibattimento venne celebrato prima a Firenze poi a Bologna e finalmente a Milano. e proprio questa dislocazione del processo al di fuori dell'ambiente siciliano nel quale la mafia si era affermata portò alla nazionalizzazione dell'interesse per la stessa ancor più di quanto non avesse fatto la discussione parlamentare sul fenomeno nel 1875. Vi è da dire che si creò nell'occasione anche una sorta di comitato pro Sicilia che promosse una serie di manifestazioni in difesa sia del palizzolo sia della sicilianità tanto da ottenere nel 1903 l'annullamento della sentenza di condanna a 30 anni di palizzolo pronunciata dalla Corte d'Assise di Bologna da parte della Cassazione e successivamente l'assoluzione del palizzolo stesso. nel 1996 venne pubblicato il romanzo Il Cigno di Sebastiano Vassalli. L'opera è cadenzata secondo l'ascensione della commedia dantesca la prima parte è l'inferno la seconda parte il purgatorio la terza è il paradiso e praticamente in queste tre parti vengono ripercorse le fasi del processo ma il paradiso di cui si parla nella terza parte del libro di Vassalli non è quello celestiale della grazia bensì quello materialissimo della vittoria politica e personale dell'illusione di modernità e di quanto vi era di gattopardesco nel mondo post-unitario è un paradiso sarebbe rimasta anche la Sicilia se un tribunale dello Stato non fosse arrivato a certificare con una sentenza che esiste un'associazione segreta chiamata mafia che soltanto in Sicilia commetterebbe soprusi furti assassini ed ogni altro genere di delitti questo è quel che proclama uno degli amici di palizzolo al termine di tutta la vicenda dell'escrizione alla dell'escrizione Grazie a tutti